L'ennesima pagina nera, speriamo l'ultima, è stata scritta dal Consiglio regionale che ha modificato in seconda lettura e quindi in via definitiva lo statuto, elevando da 4 a 5 il numero massimo degli assessori e istituendo la figura del sottosegretario alla Presidenza della Giunta a partire dalla prossima legislatura. La modifica è stata approvata a stragrande maggioranza dal centro-sinistra e dal centro-destra, con le sole eccezioni dei consiglieri Massimiliano Scarabbeo, Francesco Totaro e Patrizia Manzo, che hanno votato contro, mentre Antonio Federico era assente. In precedenza, la maggioranza che sostiene Paolo Frattura insieme a Vincenzo Niro nella nuova legge elettorale approvarono la norma che prevede il consigliere supplente per sostituire gli eletti chiamati a ricoprire l'incarico di assessore. Come si ricorderà, il decreto Monti sulla riduzione dei costi della politica, entrato in vigore nell'anno 2012 e mai abrogato, prevede per il Molise un numero massimo di consiglieri regionali pari a 20 più il Presidente e fissa a un quinto degli eletti il numero massimo degli assessori. In sostanza, 21 eletti con il Presidente diviso 5 determina il numero massimo di assessori in 4,2, che evidentemente non può essere arrotondato a 5, come invece ha deciso il Consiglio regionale con la modifica dello Statuto. Sommando tutto, viene fuori un totale di personale politico impegnato nella regione Molise di 32 unità, calpestando in tal modo la normativa del citato decreto Monti che fissava in 20 consiglieri eletti più il Presidente l'organico totale dell'istituzione regione con gli assessori interni. A partire dalla prossima e imminente nuova legislatura, invece, ci saranno 20 consiglieri eletti, più il Presidente, più 5 assessori, più 5 consiglieri supplenti per sostituire gli eletti chiamati a svolgere la funzione di assessore, più il sottosegretario. Totale 32. Insomma, una grande abbuffata, proprio mentre i molisani sono stati ridotti alla canna del gas. Peraltro, in tal modo, il decreto Monti sui tagli ai costi della politica è stato trasformato in carta igienica e il tutto è accaduto nel silenzio pressoché totale dei molisani, dei sedicenti intellettuali e di parte della stessa stampa, sempre più appiattita sul potere politico dominante. Ma tant'è. L'antipolitica è dunque chi è causa del suo male pianga se stesso.